Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E sì, avete letto bene il titolo. Questo praticamente è un video in cui svuoterò la mia calza della pepana. Se non lo sapete già, noi abbiamo una tradizione che di solito le calze le svuotiamo la sera del 5, anziché il 6 a mattina. Io non so ancora cosa c'è qui dentro e quindi voglio svuotare la calza con voi. Vediamo. Barretta al cioccolato. Cavolo! Buoni questi cioccolatini! Vediamo. Che altro? Penso che c'è qualcos'altro. Vediamo. Questo non l'ho mai provato in realtà, quindi non so dirvi se è buono oppure no. Ce ne sono più di uno, non lo sapevo sta cosa. Vediamo. Cos'è questo? Comodo al latte. Oh, c'è un'arancia. ! Ho forse troppo. Mandarino. Mandarino. sento che c'è ancora le scaramelle praticamente ci sono tre gutti ci sta l'arancia, ci sta il limone e ci sta il mandarino e questo è tutto ciò che c'era nella mia casa la befana quindi faccio gli auguri a tutte le befane che vedono questo video ci rivediamo prossimamente